Nuovo ingresso e nuovo sponsor per una lucchese più forte e ambiziosa. È stata la sala stampa del Porta Elisa ad ospitare la conferenza stampa durante la quale i vertici della società rossonera hanno annunciato l'ingresso di un nuovo importante sponsor che riguarda il settore giovanile. Parliamo della Fosber, un gruppo internazionale leader nella progettazione e produzione di installazione di linee ondulatrici complete e macchinari per il cartone ondulato. Era presente il presidente e managing director del gruppo e del consiglio di amministrazione, dottor Massimiliano Bianchi, figlio tra l'altro del compianto professor Alessandro Bianchi. Riteniamo che sia parte del dovere anche delle aziende di questo territorio dare una mano anche alla società calcistica, ma la società calcistica in realtà vuol dire dare una mano ai ragazzi che attraverso lo sport possono crescere con modelli che sono sicuramente diversi da quelli che si possono trovare fuori dal mondo sportivo o dalla scuola. Quindi secondo noi è una parte del nostro percorso di aiuto al territorio, in particolare ai ragazzi. Non a caso sponsorizziamo il settore giovanile e non la prima squadra, ma proprio perché non sarebbe coerente con la nostra filosofia aziendale sponsorizzare la prima squadra. Ma il settore giovanile sì. Si tratta indubbiamente di un gran bel tassello. Il marchio Fosber comparirà sulle maglie dei giovani rossoneri che va ad incastonarsi nel mosaico e nel programma di crescita e di assestamento di una società nata solo pochi mesi fa e che ha trovato all'epoca solo le macerie del terzo fallimento in poco più di dieci anni.